Salute, salute a tutti, bentornati ad Ippocrate, il diritto alla salute. Noi quest'oggi parleremo di sclerosi multipla, è arrivata anche in Italia un'importante terapia che è molto promettente, a quanto pare, anche per altre patologie autoimmuni. Parleremo poi di bambini, è stato presentato il libro bianco sulla loro salute, non tutte le notizie sono soddisfacenti, sono buone anche per colpa nostra, per il movimento che non gli facciamo fare, per quello invece che gli facciamo mangiare. Parleremo poi di capelli, di calvizie, come intervenire per conservare i nostri capelli e che cosa fare quando i capelli invece si iniziano a perdere, poi come non occuparsi quella di Ippocrate dell'ultima truffa ai danni di malati di cancro, a cui veniva somministrata acqua di rubinetto impastata con credenze religiose. Benvenuto al nostro primo ospite, collegato con noi da Napoli, il professor Vincenzo Brescia-Morra, che è responsabile del centro sclerosi multipla dell'Università Federico II. Professore, benvenuto qui ad Ippocrate. Buongiorno. Ed allora professore, innanzitutto che cos'è la sclerosi multipla, questa importante patologia che colpisce drammaticamente soprattutto giovani? È questa malattia neurologica cronica che accompagna per la vita il soggetto che ne viene colpito e che può condurre a una disabilità, diciamo, importante, in un'età ancora, diciamo, giovane o medio giovane il soggetto, disabilità motoria e anche ora si sta ponendo l'attenzione su una disabilità cognitiva. Quindi chiaramente bisogna intervenire per evitare che il soggetto affetto da questa patologia possa raggiungere questi livelli, un livello di bassa abilità. Professore, ogni quattro ore in Italia, a quanto pare, si fa una diagnosi di sclerosi multipla, quindi è una patologia, insomma, emergente e purtroppo sempre più diffusa. E c'è una particolarità, colpisce di più, diciamo, tre volte tanto, le donne. Come mai? E questo, diciamo così, è una situazione abbastanza tipica delle malattie autoimmuni e quindi, chiaramente, c'è il pattern, il terreno di predisposizione genetico, probabilmente, delle donne è diverso e alcuni meccanismi endocrini delle donne possono contribuire, diciamo, a una loro maggiore suscettibilità a questa patologia. Malattia autoimmune, ce ne sono tante, purtroppo la sclerosi multipla ne fa parte. Quando il sistema immunitario, per elementarizzare il professore, prende di mira se stesso, cioè gli organi del corpo? Certamente, la sclerosi multipla in cui, praticamente, ci sono queste cellule, diciamo, importanti, che sono gli infociti, che sono importantissime nel nostro sistema immunitario, per la nostra difesa dalle aggressioni dall'esterno, che invece di avere un obiettivo di un agente esterno, hanno come obiettivo delle strutture del nostro sistema nervoso centrale. Il loro target sono strutture e questa mielina, ci sono alcuni recettori sulla mielina, da cui il linfocita viene attratto in maniera irresistibile. Professore, quali sono i sintomi che potrebbero, insomma, darci l'allarme che qualcosa non va e che si potrebbe essere già in sclerosi multipla? È una malattia che può coinvolgere e colpire all'esordio qualsiasi sistema neurologico, qualsiasi sistema neurologico, quindi un deficit visivo, un deficit della forza, un deficit sensitivo, un deficit della coordinazione, un deficit dei movimenti degli occhi. Qualsiasi difettualità neurologica che insorge in maniera, o diciamo in maniera drammatica, improvvisa, o soprattutto questo quando parliamo di forme motorie che coinvolgono l'aspetto motorio in maniera lentamente progressiva, diciamo può suggerire, diciamo così, l'idea che ci si trovi di fronte a un soggetto affetto da sclerosi multipli. Allora, professor Bresciamorra, parliamo di questa importante terapia che arriva dagli Stati Uniti e è stata introdotta chiaramente in Europa, adesso in Italia. Insomma, adesso ci dice lei quali siano i grandi vantaggi anche su altre patologie di questo genere, e però c'è un caso negli Stati Uniti, una persona che dopo la prima assunzione di questo nuovo farmaco ha avuto gravi problemi che poi ne hanno determinato la morte e quindi è un farmaco in qualche modo che va preso con certe precauzioni. È corretta la sua domanda e la sua precisazione. Quindi noi in realtà il fingolimod, di quello stiamo parlando, questa nuova compressa probabilmente sarà il capostipide di tutta una generazione di nuovi farmaci che si andranno ad affiancare nel tempo ai farmaci già in uso nella sclerosi multipla e che quindi permettendo questo ampliamento del cosiddetto paniere, mi scusi questa terminologia così un po' generale, del paniere e dell'armamentario terapeutico a disposizione del medico per il controllo, si permetterà sempre di controllare in vari momenti della malattia la progressione, cercare di controllare la progressione. Quindi non stiamo, professore, non stiamo parlando di un farmaco capace di ripristinare le normali funzionalità neurologiche ma di un qualcosa che drena, frena il progredire di questa patologia? Dottore, fondamentalmente a questo momento i farmaci sono attualmente farmaci di modifica del decorso. ci sono delle suggestioni, delle evidenze iniziali che possano anche avere una funzione, i farmaci, sia quelli un attimo progressi, sia quelli che attualmente solo stanno entrando, possono avere una funzione di recupero della disabilità, però correttamente il messaggio... Professore, non è per diminuire l'efficacia di questo farmaco, anche riuscire a bloccare in una fase molto iniziale una patologia così devastante, secondo me già quello... È fondamentale, è un messaggio, assolutamente. Chiudiamo però, professore, con le precauzioni. Insomma, questa non è una mentina, non è un farmaco che chiunque possa assumere e soprattutto adesso sappiamo che anche chi è candidato a quest'uso deve essere seguito in un certo modo. È un farmaco che è sicuramente efficace e però necessita di un monitoraggio per evitare possibili effetti collaterali al soggetto che ne avrà sicuramente un beneficio, ne potrà avere sicuramente un beneficio. Grazie al professor Brescia Morra che è venuto a trovarci ad Ippocrate.